Io penso che più di tutto servirà autostima perché è vero siamo in un periodo un po' negativo però non dobbiamo dimenticarci che siamo giocatori forti, giocatori capaci, non dobbiamo perdere l'entusiasmo e la capacità di credere alle proprie qualità. Io penso che servirà quello soprattutto e insieme a quegli elementi imprescindibili come l'attenzione, la personalità, la cattiveria e penso che insieme anche come gruppo solo uniti possiamo uscire fuori da un momento come questo ma credo che faremo sicuramente una partita e anche le prossime partite con lo spirito giusto quindi da questo punto di vista sono molto molto sereno. In particolare la partita con la Ternana non abbiamo ancora parlato se non di sfuggita dopo la partita e come avete visto tutti cioè il Crotone non meritava di perdere assolutamente quindi da quel punto di vista siamo più sereni ma allo stesso tempo più arrabbiati perché quando perdi meritatamente una partita e non raggiungi un determinato obiettivo e lo meriti ti dà ancora più fastidio però se abbiamo perso comunque c'è qualcosa che non è andato bene quindi cercheremo di vedere anche gli errori che abbiamo commesso per evitare di ripeterli in futuro. Sì sicuramente come dici tu dare uno scossone con questi gesti tecnici come tu dici la scivolata è importante sicuramente è imprescindibile. Penso che però modi per far vedere la cattiveria e la grinta siano anche altri cioè uno che non sbaglia mai un passaggio, uno che fa un passaggio giusto, forte al compagno che si fa trovare sempre in posizione corretta allo stesso tempo ha la stessa valenza e importanza di una scivolata anche perché se eviti di perdere la palla eviti di farla scivolata per riconquistarla. Però comunque diciamo che in questi momenti è necessario anche fare le cose un po' più sporche dove magari anche per sfortuna non tutto viene bene quindi sicuramente mettere in campo anche la cazzimma come si definisce e anche lo spirito battagliero è sicuramente importante. Sì credo sia importantissimo insomma saper giocare in più zone del campo soprattutto in una partita può capitare che ti trovi in una zona che non è di tua competenza però se sei un giocatore evoluto, intelligente sai gestire lo spazio insomma l'avversario allo stesso modo. Il mister è una persona molto competente quindi credo che per lui come per noi non faccia differenza giocare a tre o quattro ma vuole vedere giocatori intelligenti che interpretano appunto lo spartito magari diverso, magari uguale per più partite nel modo corretto e se un giocatore non è intelligente, non riesce a mettere in pratica i dettami del mister fa fatica però in questa squadra ci sono tutti ragazzi veramente bravi quindi cambia veramente poco per noi.